Oggi che giorno è? È il nostro anniversario, 29 luglio. E dove ci siamo incontrati? Ci siamo incontrati all'aeroporto di Marrakesh, stanotte alle 3 e mezza. Un rendezvous perfetto. Perfetto. Antonella ha fatto il viaggio in nave di due giorni e mezzo, quasi tre, ha portato il camper fino a Tangeri. Da Tangeri si è fatta tutta l'autostrada fino a Marrakesh, ha individuato l'aeroporto di Minara e quando sono arrivato io era lì puntuale. Ha bussato, ha bussato, ha entrato e è venuto a dormire. Dormito al parcheggio dell'aeroporto Minara di Marrakesh. Ci concediamo una tappa a Marrakesh, al relais di Marrakesh. Piscina, piscina jacuzzi, verde, camping. 9 euro, due persone più camper. Una notte e due giorni. Antonella, pua, 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 pua... Teleporta! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.